Salve a tutti ragazzi sono iPhone Amatore e faccio questo video perché questo è un video di ringraziamento e vi voglio anche ringraziare questo slime, ringrazio tutti i miei iscritti che sono arrivati proprio adesso, adesso a 300 non vedevo l'ora di fare questo video per ringraziarvi tutti, slime ok un pochetto va bene ma adesso ho rotto un po' le palle ok prendiamo le palline di slime che noi collezioniamo, vero altro slime, aspettate un attimo che finisco un attimo con gli slime, ok, perfetto, e collezioniamo le palline nostre, perfetto ragazzi vi ringrazio infinitamente uno per uno per essere arrivato a 300 iscritti e come avete visto penso ho ricevuto la partner, farò un video di ringraziamento per iCoreVideos che mi ha dato la partner e farò un po' un... oltre a un video di ringraziamento per loro farò anche un... una guida, non una guida, un... si facciamo una guida, una guida per essere partner con iCoreVideos, logicamente dovrete avere dei requisiti che ora non sto ad elencare perché sto giocando, però nel prossimo video elencherò tutto quanto così almeno anche voi potrete avere la possibilità di diventare partner, ah gli slime, gli slime, perché esistono? si ho rotto anche una torcia ma vabbè, slime, basta, basta, grazie, ok, ora possiamo anche andare eh, che dite? perfetto, eravamo rimasti qui che dovevamo entrare in questo strano posto, molto strano, e io non so neanche cosa dovevo fare, qui c'è tutta acqua, non so se voi sentite qualche rumore, però ho messo l'audio al minimo perché anche se metto l'audio al massimo eh, cioè anche se metto l'audio al minimo, o minimo minimo, si sente tantissimo l'audio, non so perché, ok, vediamo un po', perfetto, leggiamo con un'aria molto tenebrosa la morte si erge su di me, scura, sussurra un antico messaggio, che ci sono solo dolore e paura, tutto ciò che è del suo arcano linguaggio ultime parole del sacerdote del tempo, del tempio, non del tempo i paesani temono questo tempio e non sanno chi l'abbia costruito o perché l'abbia fatto, ma se osi mortale, tu puoi tentare di svelarne i segreti, i segreti, buona fortuna e fai attenzione, wow, sieda numero uno, ponte sospeso, che c'è scritto qua, suggerimento, usa il salto con rincorsa, aspettate un attimo, ok, oddio mio, non mi di parkour perché io vi meno, io odio il parkour, lo sapete, già là vedo qualcosa che non ci doveva essere e se ci doveva essere, eh, c'ho paura però di farlo sta cosa, siamo pronti ragazzi, siamo pronti ragazzi, ok, no, non siamo pronti perché minecraft lagga di brutto, non si torna indietro, va avanti ora, e chi vuole tornare indietro, io ho solo paura di saltare lì quindi non salto, no, la lava, io la odio, oh no, 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 voi vi aspettate che faccio un salta del genere, voi siete matti, matti in testa siete, aspettate un attimo, niente, non posso, oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, oh, due chest, due chest, ormai io le chiamo chest, vediamo cosa c'è qua dentro, oh, diamantozzo, ciao diamantozzo, ragazzi, io vi ringrazio ancora perché 300 iscritti per me, non sono pochi, io avevo altri canali, grazie, molto gentile, fanculo, ma per favore, va, cioè no, sono stato trollato, io essere trollato è una cosa che odio, ve lo dico, sfida numero due, zig zag tra la lava, suggerimento, ricorda che si può rompere l'argilla, eh, si può rompere l'argilla, perché la rompo l'argilla? sì, non ci vuole niente da romper l'argilla, allora romperemo con questa red torch, oddio, 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 io intanto controllo perché, e che pensi, dove vado mo? se vuoi rompere l'argilla, ma qui non posso fare niente, al massimo salto lì Ok, vediamo un po' se l'ho risolto No vabbè, si cavo, via Uh, 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 ciao Cosa c'è qui di così interessante? Una ceste, no, ho messo la torcia Una ceste, un altro diamantozzo Ciao diamantozzo Altra argilla Altra ceste, altra ceste Allora, io sono stato trollato per due volte Ma dai Che rimbambito che sono Era la stessa di prima Sono un idiota Stato costantato che sono un idiota Complimenti, hai superato le prime prove Ma ora il gioco si fa più difficile Più difficile del cos'è? Eh, io non so affatto che i giochi difficili Te lo dico eh Vediamo se c'è qualcosa Sfile numero 3 Buio, pesto E palle di fuoco Attenta dove metti i piedi Mazzato, buio, pesto Eh, mazza quanto è buio qua Sì, visto che io vedo Oh, cazzarola Sì, vabbè Che mi hai lasciato morire così? Sì, sto cavolo Che io vado avanti Aspetta un attimo Che mi curo Perché qua moro subito Ok, qui so che non succede niente Qui non dovrebbe succedere niente Porca trota, porca Sì, sì, sto a morire infuocato Sto a morire Ciao ragazzi, ciao Ragazzi Penso che ci rivediamo lì Aspettate Ok ragazzi Eccomi di nuovo qua Eh, ho ripreso tutte le mie cose Ero morto Se non vi ricordate Due secondi fa ero morto Quindi ora andremo a riprovare Piano piano Scusate, ma se io Se io salto Li premo tutte e due Scusate, eh Ma non posso saltar Ma, morga trota Ma un secchio d'acqua non ce l'ho? No, eh Grazie Ho il secchio di lava Che non so Che ci farò io Con un secchio di lava Lava, come lava Basta, sono un idiota Sono contentissimo dei 300 iscritti Ragazzi Vi ringrazio uno per uno Veramente Perché grazie a voi Io ho ottenuto la partner E grazie ancora a voi So Sto Abbastanza Sto diventando abbastanza Popolare No, non è vero Nessuno si vede i miei video Ho dovuto implorare Per il 300esimo iscritto Ok, non è successo niente E' tanto Altri po' di fiamme Dai, dai Non muoio Non muoio Non muoio Sto sicuro Perfetto Stupida fiamma Aspettate Io recupero un po' di vita Sapete com'è Come funziona qui Aspettate Aspettate Aspettiamo Aspettiamo Poi vediamo Dove andiamo E' quanto ci metti Però a vita Di salire Certo però Il creatore di questa mappa E' proprio Un La parola con la B Perché adesso Non posso dirla Perfetto Senti Va affanchiappola Va Se devo morir Morirò Creta Mamma mia ragazzi Cioè io se va Andavo giù Io vi giuro Io uccidevo tutti quanti Eppure questa qui Ha stanza con il scrivere Sì E' questo cavolo Che c'è Vado giù Bello De casa Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sto rischiando La morte La morte Ok Ok Speriamo che qui Non ci siano più Trappole O cose del genere Aspettate Fammi vedere Se c'era qualcosa Che c'è scritto Sfida numero 4 La grande scalata Suggerimento Beh non cadere Lì c'è Sbaglio C'è un mob Ma devo andare di qua Ah no Ormai ho Oltrepassato Quello Aspettiamo un attimo La mia vita Cresce Così almeno Ce la togliamo Dalle scatole Eh guarda il mob Lui Dietro la porta Quanto è simpatico Oh mamma Siete due Stata fa Pesticiola Stata fa Bravi E io qua dietro Gamme sotto Complimenti Complimenti Posso stringere la mano Dai Ti do la mano Aspetta Sì la spada Che mi servirà Per ucciderti Tiè Ma la mano Ma la mano Oh 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 Questi schede Trigli da la mano Si prendono tutto il braccio Si prendono Quanti cacchio Ma si stanno a colpire Da soli Oh Godiamoci lo spettacolo Ragazzi Popcorn Vabbè facciamo Col secchio di lava Ah Ah Eh Ma l'ha ucciso Il suo amichetto E Ce l'ha con me adesso Sì Quindi toccherà Penso Proprio a me Uno Due Tre Tatatata Ah È stato facilissimo Che soggettoni che sono Qui che devo fare Penso che dovrò salire Perché Senza farlo apposto Sto salendo Un momento Ma questo qui è parkour Sì Questo qua è parkour Due scheletrini Bellissimi No Uno zombie Uno scheletro Scheletro No Zombie Zombie Va bene Va bene Quando arriverò Sei caduto Ma sei scemo Vabbè Ormai tu non sei un po' Il mio problema Faccio questa sfida di parkour Oddio mio Sono caduto Sono caduto ragazzi Sì 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 Zombie Dai Faccio sfida Questa sfida di parkour E poi terminerò il video Ok Quando farò Quando terminerò Questa sfida di parkour Terminerò il video Ed il video durò Cent'anni Perché io odio il parkour Odio il parkour Lo odio Però se dico così Rischio ancora di più di morire Perché Se sanno che odio il parkour Ehi Fino all'assù Devo arrivare Chi è che mi sta sparando Eeeh Vengo lassù Solo per menate Guarda Chi è No No Cioè Per colpa tua Mi sono ritornato Qua giù Basta eh Basta No 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 Ultima volta Ragazzi Se muoio Vi ringrazio tutti Un'altra volta Ma Mi dispiace Io qua Non vado avanti Mangiamo un po' di pane Perché il pane è buono Da mangiare Ok 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 Dove sta Sì Perfetto Perfetto Facciamo Facciamo Ce la rischiamo Ce la rischiamo Ce la rischiamo Ce l'abbiamo rischiata Quanto è alto Sto coso Sta all'angoletto Sta Sì Mamma mia Mamma mia Io vi giuro Ho una paura tremenda Quando faccio I doppi salti Cioè I salti in velocità Oddio Ce l'ho fatta Ragazzi Ce l'ho fatta Una bellissima Cesta Cesta Vediamo se c'è Argilla Argilla C'è qualcosa di argilla Qua Non c'è niente di argilla Mamma mia Ho rischiato Sì Ma sono rischiato Sì da numero 5 Spacca e salta Cosa Ok Suggerimento Fai molta attenzione Mazza che suggerimento Ma no No non devo fare molta attenzione Io vado così Al cavolo Ma Ragazzi Prima di arrivare Fino all'altra puntata Sì fino all'altra puntata Fino all'altro Sfida Ci rivediamo La prossima puntata Io ringrazio tutti Infinitamente ancora Per Per essere arrivato A 300 iscritti Vi ringrazio Tutti quanti E Spero che Ne diventeranno Almeno Non lo so Almeno un altro centinaio Qualcos'altro in più Cioè Almeno 2 3 Mi accontento pure di quelli Ragazzi Il video Per oggi è finito Questo qui era Un video ringraziamento E un altro Let's play di minecraft Su questa mappa Che sto odiando Piano piano Sia per I troll che mi hanno fatto Sia per queste sfide Con il parkour Un saluto a tutti Da iPhone Amatore Ciao